leviamo ogni tipo di confusione menta e mentuccia o nepitella la menta menta romana sapore fresco intenso deciso inconfondibile la mentuccia ha un profumo leggermente più tendente al selvatico infatti la potete trovare anche nei campi quindi nasce spontaneamente diciamo che è una falsa menta siccome siete dei parenti lontani quindi affini io tengo te e tu ti riposi mentuccia come la chiamano nel lazio o nepitella nepa che in latino vuol dire scorpione questo pare che curasse la puntura dello scorpione oppure da nepi città laziale caratteristiche di questa mentuccia ha una foglia ovale e ha un po più di peluria nel suo gambo cresce più o meno a 40 centimetri è una pianta perenne e non ha bisogno di grandissime attenzioni spesso la possiamo trovare nei campi all'aperto oppure vicino a delle rocce dove trova un clima molto più adatto nel campo medico quest'erba è eccezionale per problemi di stomaco depressione catarro insomma chi più ne ha più ne metta è eccezionale praticamente una panacea in sicilia si chiama nepitedda grazie grazie